Cari concittadine e cari concittadini, siamo all'inizio della stagione estiva e in tutte e tre le nostre isole, la Favignana, l'Evans e Maret, c'è un'impennata del fenomeno esecrabile, dell'abbandono dei rifiuti lungo la costa, lungo le strade, nelle vie del centro. Chi si colpisce se si fa questo? Si colpisce l'immagine delle nostre isole, si colpisce il diritto alla salute dei cittadini, abbandoni continui, rifiuti ovunque. Noi non facciamo appello alla repressione, benché abbiamo dato mandato alla Polizia Municipale di colpire duramente chi viene scoperto a commettere questo che è un reato, ma facciamo appello al senso civico, all'amore che ognuno di noi deve avere per queste isole. Non credo che facendo questo si colpisca un'amministrazione comunale, si colpisce la bellezza dei nostri territori, facciamo appello a tutti i cittadini a collaborare. Molte abitazioni sono in ristrutturazione in questo periodo, non è possibile che le imprese o i proprietari delle case abbandonino i detriti, prodotti lungo le nostre coste o nelle cave. Facciamo un appello quindi, ognuno di noi rispetti con amore il proprio territorio, le proprie isole e la propria bellezza. Ne va della qualità della propria vita e anche dell'immagine che diamo a tutti quelli che decidono di visitare il nostro arcipelago da oggi fino alla fine della stagione turistica.